Scusa, posso fare una foto a tu un cane? Sì, sei il ragazzo di Instagram, giusto? Sì, sì. Eli! Come si chiama? Marx. Marx. Come Karl Marx. Tre mesi, quattro. Quattro. Farà la rivoluzione perché è un cane molto rivoluzionario. Cerca di liberare tutti gli altri cani andando a mordicchiare i guinzagli quando li incontra per liberarli. E questo insomma dice tutta sul suo nome. Sei tu? Sì, sì. Complimenti. Grazie. È un profilo bellissimo e poi il fatto che prenda in giro questi cani all'improvviso è proprio una cosa fantastica. Cerca sempre di fare un po' il pazzo, si ribella tutti gli ordini, è un cane libero. Viene sempre con noi, è un cane viaggiatore. Ok. Lo portiamo ovunque, lui sta sempre bravo, cammina un sacco e fa parte di noi.